Serata bollente sul palco di Amici 19, dopo la crisi che ha spinto Javier ad abbandonare il palco, la serata ha regalato altre polemiche. Dopo aver perso la sfida contro Gaia, Valentin si è lasciato andare a un commento amaro. Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato, ha detto il ballerino, anche se dovessi vincere con Jacopo io me ne vado, anche perché prima era chiaro che Javier aveva ballato molto meglio di Nicolai. Frasi contro la giuria che non sono piaciute a Maria De Filippi che si è infuriata, ora basta lo ha interrotto la conduttrice, se vuoi andare puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo, questo programma è così da vent'anni, hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti, mi riferisco a Natalia, spesso la correggi, pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto, nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta, penso che lui meriti più di te di stare qua, è rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi. Valentin prova a spiegarsi meglio dicendo che sia lui sia Nicolai e Javier non riescono ad esprimersi a pieno, forse anche a causa delle tante polemiche, la conduttrice ribatte mandandolo via, di come ti esprimi tu non mi importa niente e dunque Valentin l'eliminato della terza puntata.